Si torna a parlare della discussa sentenza in Corte d'Assise d'Appello all'Aquila per l'omicidio di Monia di Domenico, con la pena per Giovanni Iacone ridotta da 30 a 17 anni. Lo fa il noto psicologo, il professor Giuseppe Orfanelli, nel corso di un convegno sugli aspetti criminologici, penalistici e normativi della vulnerabilità delle vittime, diretta o indiretta, di atti di violenza, tenutosi stamane presso l'Aula Magna della Scuola di Polizia di Controllo del Territorio di Pescara. Se in un recente processo per l'omicidio di una mia ex assistente, tra l'altro, fosse stato ascoltato uno psicologo specializzato in criminologia clinica, ha detto Orfanelli, senza limitarsi alla relazione, seppure ottima, di un anatomo o patologo, forse i giudici sarebbero stati meglio indirizzati a confermare la condanna a 30 anni all'imputato, piuttosto che ridurla a 17. Sì, la figura dello psicologo è fondamentale perché, chiaramente, il consulente tecnico si è preparato, è chiaro che sono dei cardini di preparazione per dare al magistrato la possibilità di blindarlo nei confronti di quelle che sono le situazioni che si verificano, di qualsiasi ipotereato, sia di violenza sessuale sui minori, sia di maltrattamenti, sia di femminicidi, perché il criminologo poi nei femminicidi diventa fondamentale, perché con la criminogenese, criminodinamica, che riguarda il criminal profiling, mettiamo in condizione il magistrato di avere un'analisi specifica, anatomica, di quello che è successo. Anche, insomma, prima lei diceva rispetto alla questione dei disturbi mentali, ad esempio pensiamo ai pedofili, di personalità rispetto ai pedofili, ad esempio, sono persone che non si possono curare e che quindi in qualche modo possono reiterare il reato e allora come ci si deve comportare? La pedofilia è una perversione sessuale, non è una patologia. È chiaro che queste persone possono solo ed unicamente, una volta condannate, andare in galera. Più ci rimangono, meglio è. Però, chiaramente, il codice penale ha dei dati di carattere carcerario e quindi detenzione oltre a quello non si può andare. Però, logicamente, è una persona che quando esce, estendo un perverso sessuale, può continuare a reiterare il suo regalo, perché ha bisogno di viversi in quella situazione. Conclusione, la moderna scienza dell'investigazione mette in risalto il rapporto sempre più stretto tra psicologia e investigazione. Questi ragazzi qui, questa mattina, insomma, da questo punto di vista hanno ricevuto informazioni molto utili. Ma questa è una scuola all'avanguardia dove io mi onoro di insegnare dal 2000. Cioè, questa è una scuola, chiaramente, che è l'unica in Italia, le scuole della Polizia di Stato, che danno questo tipo di... adesso c'è la scuola allievi, la scuola di aggiornamento, che danno, hanno delle ore di psicologia che sono fondamentali ed importanti proprio per dare dei supporti a questi ragazzi. Io quest'anno farò anche una lezione a loro di poche ore, però la scuola allievi agenti, l'ho fatta anche a Spoleto, è fondamentale perché devono avere dei margini di capire il ruolo del tecnico nel loro lavoro e capire il loro lavoro, che è fondamentale e importante. L'incontro, fortemente voluto dalla direttore della scuola, Francesco Zirilli, si inquadra in una serie di iniziative correlate all'attività didattica degli allevi del corso, che tra meno di un mese, giunge alla conclusione. Tra i relatori, la sostituto procuratore di Chieti, Giancarlo Ciani, che ha parlato degli aspetti normativi legati ai reati di maltrattamento e violenza sessuale, è l'approccio più adeguato che le forze di polizia devono avere nel formulare le informazioni di reato, citando l'importante protocollo d'intesa della Procura di Tivoli sulla protezione delle vittime di reato in condizione di particolare vulnerabilità e di violenza di genere. È stata poi la volta del magistrato di Cassazione Aldo Aceto che ha offerto interessanti spunti anche rispetto al modo con il quale vengono formulate determinate sentenze, spesso oggetto di critiche, sottolineando i meandri all'interno dei quali sia la magistratura inquirente che quella giudicante devono inoltrarsi anche rispetto a una consapevolezza giovane della gravità di certi reati, come quello della violenza sessuale che solo dal 1996 è diventato delitto contro la persona quando invece prima era considerata delitto contro la moralità pubblica. Non solo ha una consapevolezza, diciamo, giovane, ma stiamo rischiando di tornare indietro. Cioè quando sento episodi come quello, faccio un esempio, l'ultima notizia di cronaca, della ragazza arbitro che subisce aggressioni sessiste in campo con il ragazzino di 14 anni che si toglie il pantaloncino a mo' di sfida per farle vedere il pene. Allora tu capisci che stiamo passando un periodo un po' per cui la dimensione della, come dire, della sessualità come diritto inviolabile della persona è messa a dura prova. Non che i diritti non lo siano mai, perché i diritti sono sempre, non sono mai diritti acquisiti, ma necessitano essere implementati giorno per giorno. Ma il rischio è che la cultura di oggi ci porti verso un allontanamento da questa consapevolezza. Cioè abbiamo fatto tanto per riuscire a trasformare questo reato in un reato contro la persona, vediamo adesso di non perdere tutto il lavoro fatto. Spesso l'opinione pubblica si trova a non capire, a non comprendere determinate decisioni dei giudici. E allora come in qualche modo si deve intervenire da questo punto di vista? Ma questo è fisiologico. Perché come ho detto prima, quando viene data la notizia, la notizia è un'informazione provvisoria, sommaria, diciamo così. Il fatto normalmente è molto più complesso, così come lo sono i relativi protagonisti. Per cui è normale che può accadere, ed è accaduto, che di fronte a notizie di fatti apparentemente ferati, gravi, magari, come dire, ingigantiti dall'emotività del momento, e poi invece il giudice che esamina serenamente e professionalmente gli atti, leggendoli, approfondendoli, invece giunga a conclusioni che sono completamente diverse. Io l'ho detto prima, il diritto si caratterizza per il fatto che non si fonda sull'emozione, ma sulla ragione. Ed è chiaro che poi l'opinione pubblica può rimanere sconcertata. Si è affrontato anche il tema della prevenzione, utile. Da questo punto di vista, l'intervento della dirigente della sezione anticrimine e della questura di Milano, Alessandra Simone, che ha illustrato i termini del protocollo Zeus. È un protocollo che viene attuato nell'ambito della procedura dell'ammonimento del questore. L'ammonimento è uno strumento di prevenzione con cui il questore, dedicato agli stalker, è a coloro che sono i potenziali autori di atti di violenza domestica. Il questore gli intima di non continuare in quel comportamento. A Milano, appunto, da aprile dello scorso anno si fa di più. Oltre all'intimazione del questore, il potenziale maltrattante, il soggetto ammonito, viene mandato in terapia. Un trattamento, diciamo, è un percorso terapeutico, trattamentale, ecco, più che terapeutico, per cui il soggetto avrà coscienza del disvalore sociale e penale del fatto. Attraverso, appunto, viene preso in carico da un'equip multidisciplinare di psicologi, criminologi, terapeuti, che gli faranno capire che quello che compie non deve essere fatto. Ecco, alla luce anche dei tanti, troppi episodi di femminicidi, e lei diceva prima, con estrema onestà intellettuale, se vogliamo, è che bisogna davvero prendere sul serio determinate denunce, visto che l'80% dei femminicidi alle spalle, a monte, hanno episodi di maltrattamento. Assolutamente, non bisogna mai sottovalutare. La cassetta degli attrezzi degli operatori di polizia deve essere di prendere in carico la donna e non indulgere in quelle tecniche di mediazione. Non sono affari di famiglia. La donna non deve tornare a casa, tanto fai pace col marito. Dobbiamo raccogliere la denuncia e andare avanti, senza sottovalutare niente. Ed infine la direttora della scuola, Francesco Zerilli, ci illustra l'attività da qui alla conclusione del corso, previsto per il 28 giugno. È vero, infatti i nostri agenti in prova del 204esimo corso, che oggi sono qua tutti presenti, stanno per terminare il loro periodo residenziale qui presso questa scuola, dopodiché avranno altri tre mesi di prova pratica, per così dire, negli uffici a cui saranno destinati. E a fine del mese di giugno faranno il loro giuramento solenne per poi iniziare la loro vita operativa. Grazie. Grazie.